Buongiorno, oggi vediamo brevemente come sincronizzare il nostro calendario distrettuale prima su computer aprendo il nostro browser e andando sul sito internet del distretto leo108a.it e una volta visualizzata la home, sul menu andiamo alla pagina eventi una volta aperta e scendendo verso il basso è presente un link a sinistra per poter sincronizzare in automatico il calendario sincronizza il calendario, clicchiamo inseriamo l'email che utilizziamo più frequentemente, nel mio caso sarà la mia personale andiamo avanti, inseriamo la password che è super segreta ok, a questo punto si apre il calendario di Google ci chiederà di aggiungere, la mail collegata in questo caso è info-leo108a.it noi facciamo clic su aggiungi ed sarà sincronizzato in automatico da telefono invece apriamo sempre il nostro, nel mio caso Safari perché ho un iPhone cerco di nuovo il sito internet leo108a.it con estrema lentezza ok, una volta aperta la pagina sul menu a tendina, che questa volta lo troviamo sulle tre lineette a destra scendiamo fino a trovare di nuovo la pagina eventi qui è un po' più espanso, diciamo un po' più lungo anche qua, come abbiamo visto da computer, sarà presente il link sincronizza il calendario cliccando ci chiederà di nuovo i nostri dati sempre la mail, poi la password una volta fatta la procedura ci chiederà se vogliamo l'applicazione è molto utile, io in realtà ce l'ho già infatti farò apri, ma come vedrete dal mio Apple Store dovrò soltanto aggiornarla se volete potete scaricarla, io clicco una volta completata la apro e come vedete gli eventi appariranno in automatico se avete dubbi potete scriverci alla nostra email istituzionale, grazie grazie